Arzachena, alzachena in gallurese e alzachena in sardo, è un comune della provincia di Sassari, i cui abitanti sono detti arzachinesi o alzachinesi in gallurese e alzachenesos in sardo, e la patrona è la Madonna della Neve. Situata a circa 83 metri sul livello del mare, ricopre una notevole importanza dal punto di vista economico, sia demograficamente, sia economicamente dal punto di vista turistico e ricettivo. Il comune, frazione di Tempio Pausania fino al 1922, è suddiviso in diverse frazioni e al suo interno è racchiusa la famosa località turistica chiamata Costa Smeralda. L'origine del toponimo è probabilmente da ricondurre al sostrato paleosardo. La più antica documentazione del toponimo di Arzachena, nella forma arsequene, risale al 1300 e si trova nell'elenco delle parrocchie della diocesi di Civita, che versavano le decime alla curia romana. Il territorio abitato dall'uomo sin dal periodo pre-nuragico e nuragico, in periodo romano, era nota col nome di Turibulum, per via della grande roccia a forma di fungo che sovrasta l'attuale città e consisteva in due centri vicini, Tiribulum Major e Tiribulum Minor. Mantenne una rilevante importanza per tutto il periodo giudicale, tant'è che col nome di Arseguen costituiva il capoluogo della curatoria di Unale del giudicato di Gallura e dopo la caduta di quest'ultimo, nel 1288, passò alla Repubblica di Pisa. Poco dopo l'inizio della dominazione aragonese, iniziata nel 1324, andò lentamente spopolandosi, anche a causa delle frequenti incursioni saracene e delle mortali pestilenze, fino a che, nella seconda metà del 1500, la zona fu praticamente disabitata. L'attuale cittadina, che poggia su un colle granitico, fu edificata a partire dal 1716 per volontà del re di Sardegna Carlo Emanuele III, nonostante l'incontrollabilità della popolazione locale e l'invio, per questo, di forze militari. Lo fece per incentivare il ripopolamento del territorio. Fu così che, tra il 1774 e il 1776, la piccola chiesa campestre, intitolata Santa Maria d'Arzaghena, venne notevolmente ampliata e cambiò il nome, divenendo Santa Maria Maggiore, e attorno ad essa, il paese si sviluppò notevolmente, tanto che nel 1909, anno della formazione del Comitato Pro Autonomia, contava già 853 abitanti.